E' stata inaugurata ieri nel corso di una cerimonia dai toni volutamente sobri alla presenza dell'autore, il maestro Alfio Nicolosi, del questore di Ragusa, Giuseppe Gammino ed illustri ospiti, la posa della scultura donata dall'artista al commissariato di pubblica sicurezza. L'opera del noto scultore, originario di Zafferano Etnea e residente a Pedalino, denominata Hercules, è una scultura su pietra dura delle dimensioni di 70x75 cm, realizzata dal maestro alcuni anni fa, consegnata al commissariato di polizia che ne ha predisposto un allestimento al primo piano della struttura. La riconoscenza per il generoso gesto è stata compendiata con una targa ricordo del momento che la polizia ha consegnato al maestro. Il comandante della polizia municipale, Cosimo Costa, ha ringraziato il maestro Nicolosi per aver voluto donare alla polizia municipale di Vittoria una sua opera, in segno di stima e di riconoscenza per l'attività svolta e per l'impegno profuso dal personale del corpo. La scultura, che arricchisce gli uffici del comando, è stata posta all'ingresso in modo che tutti coloro che a vario titolo accedono alla nostra sede possano ammirarla, così ha detto il comandante della polizia Cosimo Costa.